Sono tornati a verificarsi durante il weekend di Ferragosto, nella zona del lungomare di Levante, diversi atti vandalici ai danni degli stabilimenti balneari dell'area. Disagi con cui i gestori e i titolari delle spiagge di Viale Nazario Sauro fanno i conti ormai da diverse stagioni e che nell'estate del 2021 sono tornati a ripresentarsi, con gli episodi di maggior gravità, proprio a cavallo di quest'ultimo fine settimana. A registrare i danni più ingenti è stato lo stabilimento numero 27, dove sono state divelte diverse porte delle cabine, come racconta il titolare Claudio Casoli. Nella notte di Ferragosto, da 14 e 15, mi ha chiamato la vigilanza e sono state rotte cinque porte delle cabine. Abbiamo già individuato i colpevoli, perché noi abbiamo la telecamera, e andremo a fare la denuncia dei carabinieri, perché comunque sono stati chiamati dalla vigilanza. Abbiamo già provveduto a risistemare il danno, perché avevamo di ricambio delle porte, però così purtroppo non si può andare avanti. Danni economici quantificati? Ma intorno ai 1.000-1.500 euro. Il principale appello dei gestori balneari, oltre ad un'implementazione dei controlli, rimane quello di poter vietare l'accesso alle spiagge durante la notte. Proposta già formulata durante un incontro con l'amministrazione qualche settimana fa, è che gli stessi gestori torneranno a chiedere formalmente al termine della stagione, sperando che questa rappresenti un'alternativa valida a ridurre episodi come quelli già registrati. L'anno scorso non tanto le cabine ma gli ombrelloni e quest'anno hanno voluto cambiare oggetti, però non ce la facciamo più. Noi chiediamo al comune o a chi di dovere di poter chiudere gli stabilimenti a una certa ora, perché se no così noi non riusciamo ad andare avanti. Noi da qui fino a Bagni Marevivo abbiamo il ragazzo della vigilanza privata che il venerdì e il sabato viene rafforzato con dei piantoni nei punti strategici, però purtroppo anche questo non riusciamo a gestire, non servirebbe più chiudere le spiagge e vedere un po' la situazione.